Come, 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 no, io devo fare un altro bicycle shoot perché mi state facendo, no, mi state facendo incazzato troppo No, non è possibile che siete così stupidi Riproviamo, rifacciamo per l'annissima volta Bicycle shoot BAMMA PERFETTO Si è visto tutto, si è visto tutto, questo l'ho fatto perfetto Si è visto come il piede ha agganciato il pallone Si è visto